Ciao a tutti e bentornati, andiamo a realizzarci oggi un bullone in par design, quindi ci posizioniamo sul piano orizzontale e andiamo a disegnarci un esagono, andata ad imporre che questo lato si è risposto orizzontalmente e quindi avremo una dimensione del lato in questione di 6 mm. Che cosa facciamo? Ci spostiamo nello spazio, lo andiamo ad estrudere in una direzione di 4 mm e diamo l'ok. Ci spostiamo adesso sulla faccia superiore e sulla faccia superiore andiamo a disegnare una circonferenza con centro nell'origine e che sia tangente al lato. Si verifica dalla condizione di tangenza e diamo l'ok. Adesso ci rispostiamo nuovamente nello spazio. Le nostre considerazioni successive dovranno essere fatte sul piano ZX. Quindi sul piano ZX andiamo a disegnare il nostro profilo che ci permetterà di smussare il bullone. Per far questo andiamo a proiettare come linea di costruzione la circonferenza su questo piano. Adesso abbiamo bisogno di un profilo che parta da questo punto che sia disposto orizzontalmente, quindi questo profilo chiuso. Andremo ad imporre che questo angolo sia un angolo di 30 gradi. quindi per avere uno schizzo isodefinito andremo a definire anche questa distanza che faremo di 10 mm. ci spostiamo nello spazio. Richiamiamo il comando linguetta utilizzando come profilo lo schizzo numero 3 e come asse utilizzeremo l'asse Z. diamo ok. Quindi abbiamo smussato la parte superiore. Nascondiamo la circonferenza che è rappresentata dallo schizzo 2 e, selezionato il nostro part body, lo andremo a specchiare rispetto al piano X, Y e OK. In questo modo. Dopodiché andiamo a realizzare un foro nella parte superiore. quindi il foro dovrà avere un diametro di 6 mm come posizione, quindi dovrà essere di tipo fino al prossimo elemento, in modo da forare completamente il bullone e andiamo a selezionare nel posizionamento, quindi faremo in modo che il punto appartenga sia al piano ZX, quindi che ci sia una coincidenza con questo piano e sia al piano YZ. Coincidenza. Ok. Diamo ok. Adesso andiamo a smussare, a raccordare, pardon, quindi la superficie interna con un raggio del raccordo pari a 0,2. Vediamo l'ok in questo modo. Adesso ci spostiamo sul piano YZ, ad esempio, quindi uno dei due piani verticali, e sul piano YZ, quello che dobbiamo fare è andare a disegnarci un punto che dovrà distare 3 mm dall'asse verticale e come posizionamento lo faremo coincidente con una delle due facce, la faccia superiore o la faccia inferiore, quindi avremo una condizione di coincidenza in questo modo. Ci spostiamo adesso in shape, generative shape design e andiamo ad utilizzare il comando elica e ovviamente il comando elica come asse avremo l'asse delle Z invertiamo la direzione ops, annulla e potremo anche variare il passo ma comunque possiamo lasciare anche questo tipo di passo e diamolo ok potremo selezionare ad esempio l'altezza complessiva scegliere un'altezza complessiva di 8 mm che poi è l'altezza del nostro burlone e diamolo ok possiamo spostarci nuovamente in mechanical design e bar design e in bar design ci spostiamo nuovamente sul piano YX e sul piano YX andremo a disegnare il profilo quindi utilizziamo innanzitutto un asse che parta ad esempio dal punto che non abbiamo ancora quindi come prima cosa selezioniamo il punto ce lo proiettiamo come linea di costruzione come punto di costruzione dopodiché quindi di selezionato l'opzione costruzione ci andiamo a disegnare un asse che parta da questo punto che sia diretto orizzontalmente quindi imponiamo che sia orizzontale e diamolo ok e adesso possiamo disegnarci il profilo quindi noi avremo un profilo questo profilo lo facciamo partire quindi adesso semplicemente abbiamo la nostra prima linea ce la possiamo specchiare rispetto all'asse e possiamo selezionare un angolo per questo elemento ad esempio facciamolo di 60 gradi come ci pare chiudiamo il profilo in questo modo e andiamo a selezionare anche la distanza del vertice dal punto imponendo ad esempio una distanza di 0.5 e diamolo ok come angolo 60 non mi piace scegliamo un angolo di 30 diamolo ok come al solito per definire lo schizzo definiamo anche questa distanza che sarà una distanza di 2 mm in questo modo quindi adesso abbiamo tutto quello che ci serve possiamo spostarci nello spazio richiamiamo il comando scanalatura come direttrice allora innanzitutto sceglieremo una superficie di riferimento la superficie di riferimento sarà la superficie interna come direttrice sceglieremo l'elica mettiamolo ok ok chiudi quindi in questo modo abbiamo realizzato il nostro profilo allora per evitare questo tipo di inconvenienti basterà semplicemente far partire il punto in questione come distanza lasciamo la distanza 3 mm ma potremo spostarlo di 1 mm al di sopra del limite superiore in modo da evitare che si venga a formare questo scalino comunque il procedimento è chiaro non è potete giostrarlo a vostro piacimento potete scegliere variare angoli dimensioni filetti e così via al solito spero che il tutorial vi sia servito iscrivetevi mettete mi piace alla prossima